L'intenzione del Governo è quella di unificare la normativa che regola il diritto allo sciopero? No, non è l'intenzione del Governo di unificare la normativa sui diritti. Glielo dice lei alla Vicepremier Salvini che questa mattina ha detto che mi occuperò del diritto allo sciopero. Credo che la Vicepremier Salvini semplicemente abbia fatto riferimento, come voi sapete, a un'indicazione che arrivava da un autorità indipendente. Cioè cercare di mettere insieme il tema del diritto allo sciopero col tema dei servizi pubblici, del diritto dei cittadini. Ma non c'è allo stato attuale, nelle intenzioni del Governo, quello di unificare il diritto allo sciopero. Quindi è stato giusto precettare, è stata una decisione condivisa nel Governo? È stata una decisione assolutamente condivisa, ma sulla base dell'indicazione che arrivava da un'autorità indipendente, se non sulla base di una scelta, diciamo così, politica, ma sulla base di una scelta di mediazione tra due diritti che vanno evidentemente entrambi garantiti e per i quali per l'appunto esiste un'autorità indipendente per definire. La mostra l'ho trovata molto bella, l'ho trovata molto completa. Ho visto, da persona che conosce abbastanza bene la materia, molte cose che non conoscevo. È molto viva e fa, secondo me, una ricostruzione molto bella, non solo delle opere, che sono abbastanza note, ma anche dell'uomo. A me piaceva molto, quando studiavo la letteratura anche, capire cosa ci fosse nella vita dell'autore, che aiuta anche a leggere meglio le opere. E questa è una mostra che, da questo punto di vista, fa un salto di qualità, per cui ringrazio il Ministro San Giuliano, ringrazio la Galleria Nazionale, ringrazio i curatori. È una bella pagina di cultura. Mi chiedono del mess. Sul mess, attualmente non mi pare che stia slittando, è all'ordine del giorno, è calendarizzato, vedremo. Sulla nomina del settimana prossima? Ragazzi, i lavori parlamentari quelli sono, se la settimana prossima è calendarizzato, la settimana prossima si discuterà. No, per me non è cambiato niente. Mentre sulla nomina al piccolo del figlio di Ignazio Lagussa, l'accusa è quella di salircibili a tutto il piccolo? Come ha domicilano? Guardi, francamente non conosco la vicenda, cioè non conosco quale sia stato il modo con cui questo è accaduto. Io conosco, diciamo, Geronimo per essere persona che ha fatto, insomma, diverse cose nella sua vita e tendenzialmente non per indicazione del padre. Dopodiché capisco, insomma, che possa generare delle polemiche, però penso anche che le persone, indipendentemente dal cognome che portano, debbano avere delle possibilità. Altrimenti, voglio dire, dovrei considerare che per esempio tutti quelli che hanno un cognome affine a un politico, che magari lavorano nelle partecipate statali, ci siano arrivate su raccomandazione.